Lo scarto tessile che non può essere riciclato diventa asfalto, l'asfaltex. L'idea di Andy Asfalti e di un gruppo di imprese pratesi che hanno dato vita a Wastex diventa realtà sesto fiorentino per pavimentare una porzione di pista ciclabile. Qui è stato posato circa mezzo chilometro di questo speciale asfalto. Per realizzarlo sono stati utilizzati mille chili di scarti tessili, circa un chilo a metro quadrato. Ci accompagna in questo viaggio verso nuove sfide dell'economia circolare di cui Prato è sempre stata pioniera Fabio Fontani, capo di Wastex. La differenza si vede anche a occhio. L'asfalto che vedete a sinistra contiene una piccola percentuale di scarti tessili indifferenziati e indifferenziabili che sarebbero andati in qualche inceneratore o in qualche discarica del mondo invece sono qui presenti e conferiscono appena appena un colore leggermente più rossiccio all'asfalto in questione. La percentuale è molto poca ma già questo ci dà questa nota di colore differente da quello che è la striscia a destra. Questo tipo di asfalto offre una soluzione ecologica all'annoso problema degli scarti tessili non riciclabili ma è anche di qualità superiore perché ha una durata e potere rimbalzante maggiore. La gente quando camminerà qui troverà un comfort migliore rispetto all'asfalto normale. In versione albina ossia più chiara per evidenziare la presenza di fibre tessili Asphaltex sarà usato per pavimentare un percorso pedonale nel comune di Vaiano. Nel frattempo la ricerca va avanti e presto il consorzio avrà un proprio hub finanziato dal PNRR per incrementare e differenziare gli usi degli scarti. Piani rigidi con cui può essere fatto degli arredamenti, abbiamo tutto un concetto di pannelli forno assorbenti, stiamo sviluppando ora un istituto giordano che ci sta certificando il prodotto, abbiamo dei prodotti che sono adatti per le azioni di presso termo formatura per diventare degli oggetti. La svolta vera arriverà da un'incentivazione pubblica e da un incremento della domanda di questo tipo di prodotti. Di creare mercati di sbocco con prodotti alternativi. Grazie.